Siete pronti? Oggi voglio fare una ricetta golosissima, quello che mi mangerei io quando proprio ho voglia di qualcosa di buono, che cosa? Una bistecca con uova, formaggio e tartufo Che bontà! Iniziamo subito! Allora, abbiamo qui la carne, abbiamo il dietro, la parte dietro della pezza, dello scamone, la taglio a metà perché altrimenti non mi entra tutt'altra la padella, poi abbiamo del formaggio, io ho qua il cacio del po, però prendete un formaggio che è stagionato buono, giusto, una cosa buona, poi aglio, peperoncino, come può mancare il peperoncino, le uova freschissime e poi mi hanno regalato questa salsa, salsa con tartufi, a base dei funghi champignon e tartufo nero, vediamo un po' Allora, padella è bella, che bella, vabbè, il ritmo è bella calda, metto olio, perché mi piace con l'olio a prescindere da quello che dicono gli altri, però mi voglio la brustolita la voglio la carne Sarà? Ci siamo? Ci siamo Guardate che meraviglia sta carne Così, mamma mia Faccio pure quest'altra, quest'altra Ah, facciamo pure questa, vai Allora Allora, che cosa facciamo? Fiamo la buona, quindi tagliammi dall'aglio, così Qualcuno dirà, ma hai poi questa carne? Mi piace così? Mi piace a me? Ecco qua, metto così, profumiamo un pochetto, pure a te piccoletta, mangia qua Poi, formaggio veloce sottile Ok, tagliamo Così, così Mi servono delle fette di formaggio che si possono sciogliere durante la cottura della carne Non sottilette, fette, ok? Io ho visto già qualcuno pronta a piacere Eh, le volte l'ho visto, eh Allora, adesso Subito, è la cosa più semplice Vai, giro la carne fuori dal fuoco Ma guardate che mi tocca sentire, guarda Ma voi perché fate così? Vai Vai, vieni, vieni Vieni, vieni Fagli un saluto, vieni, guarda che roba, vai Un po' di sale Poco, senza esagerare E subito le uova Non ti muove, eh Così Piano piano Vai, non cascate, non cascate, prego Questo Questo Ecco qua Così Ok E così Coperchio E lasciamo cuocere il tutto Vediamo che succede Intanto assaggiamo la salsa Buona, buona, buona Madonna mia qui Vieni, preverte, dai Vediamo un po', piano piano, faccio la capuccella Uno si è spostato Uno si è spostato, uno è rimasto là però, dai Ci siamo Basta, spengo Fuori dall'induzione Adesso, piatto Uno è cascato, l'altro no Una già, una già Facciamo così Paletta Ah, mi sto sentì male Un po' di tartufo, così Dove capita Poi Poi Peperoncino La mia la faccio con il peperoncino abbondante Vai, così Che ruba Un goccetto d'olio buono con l'agostino Somma arriva Facciamo fare la decorazione con l'aglio, va bene? Adesso assaggio la mia Prendo l'uovo Così Tartufo Salsa di tartufo Se c'è del tartufo buono Adesso fresco, perché il tartufo fresco, eh? Buona questa tazza però Vado Taglio Guardate qua Ah Però non ho preso il formaggio Non ho preso il formaggio, che bontà Mmm Ragazzi Una zozzata, ma una bontà che finisce mai Mmm 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 Bontà Bontà Godo Mmm Nuova video ricetta Una ricetta guturiosa, fatta con manzo Cacio del Po Uova E salsa d'artufata Mmm 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 E